La mela più famosa del mondo Si rivolge a Rob Genoff dell'azienda pubblicitaria Regis McKenna Che propone una mela stilizzata Ma il grafico non è del tutto soddisfatto Manca ancora qualcosa Il lampo di genio gli viene leggendo uno slogan della Apple One Che giocava sul significato delle parole bite Che nel linguaggio informatico indica 8 bit E bite morso Recitava così Taking a bite of the apple Prendi un morso della mela Da qui l'idea del morso Anche se dicono altri esperti di storia dell'informatica Il morso sulla mela sarebbe anche un riconoscimento Al matematico Alan Turing Il padre della moderna informatica Morto suicida nel 1954 Mangiando una mela avvelenata In ogni caso Steve Jobs è molto contento del nuovo logo Ma fa aggiungere le strisce arcobaleno Per sottolineare l'introduzione del colore nell'Apple Two Il logo rimane questo fino al 1998 Quando si evolve e diventa uniforme Più moderno e sobrio Ma perché la mela? Non ci sono certezze Qui la storia si confonde con la leggenda dell'informatica Gli esperti del settore sostengono che Steve Jobs da ragazzo Abbia lavorato in una piantagione di mele E anche che fosse rimasto colpito dall'etichetta discografica dei Beatles Apple Records Con cui poi in effetti ebbe una lunga causa giudiziaria Ma circola anche la voce che il motivo sia molto più banale Mentre pensava a un nome per il suo primo computer Jobs vide sul tavolo una mela Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti